Più sostegno alla paternità, orario di lavoro ridotto, congedo retribuito per le vittime di violenze di genere e una commissione tecnica sulla sicurezza è quanto previsto dal nuovo contratto integrativo che Unicop Firenze ha siglato insieme ai sindacati. L'accordo migliorerà le condizioni lavorative di 8.000 dipendenti, valorizzando l'equilibrio fra impegno lavorativo e quello familiare. È un contratto che guarda ai giovani, che guarda all'equilibrio anche fra le generazioni che vuole mantenere alcune condizioni di miglior favore rispetto al contratto nazionale per i nostri lavoratori. Fra le nuove misure c'è la riduzione delle ore lavorate da 40 a 36 e quella progressiva a 38 per gli assunti dalla dicembre 2011. Forte attenzione viene rivolta al tema della sicurezza, così come questi mesi di contrattazione hanno portato all'equiparazione di unioni civili e matrimonio. Le unioni civili avranno gli stessi diritti previsti dal matrimonio. Siamo riusciti a chiudere questo accordo proprio tenuto conto delle persone che ci lavorano, quindi soprattutto giovani e donne, con un elemento che ci ha tenuto insieme, quello dell'inclusività.